Presidente, il 2014 è vicino, quale ruolo devono avere le aree interne nella nuova programmazione europea? In un momento di particolare crisi come vive il nostro Paese, la programmazione europea 2014-2020, quindi con risorse finanziarie rilevanti, è una scadenza assolutamente importante. Peraltro in questa programmazione un ruolo strategico individuato dall'Europa è la valorizzazione delle aree interne e quindi è bene che le istituzioni locali, a cominciare a regioni, province, finché ci sono, comuni, si adoperino per mettersi in linea con quella che è la programmazione europea. Le aree interne in Italia e anche nella nostra regione, nella provincia, rappresentano un dato importantissimo quanto a territorio che viene ricompreso nelle aree interne e quanto anche a possibilità di contribuire a uno sviluppo economico attraverso le potenzialità che le aree interne hanno, di cui dispongono. La programmazione europea, non a caso, parlando di aree interne e agevolando un percorso di programmazione intelligente, vuole ottimizzare quelle che sono le risorse delle aree interne, a cominciare dal turismo, dall'agricoltura, la biodiversità, l'ambiente e quant'altro.